Da questo incarico mi aspetto di poter fare un servizio che sia per il bene appunto di questi ragazzi che sono quelli del servizio civile, i quali hanno appena iniziato e hanno un anno di percorso da fare. Il vescovo mi ha chiesto di affiancarli in chiave spirituale e poi anche in chiave relazionale e la carità è già un'esperienza che ho già fatto negli anni precedenti sia quando ero diacono sia anche da sacerdote e soprattutto nell'ottica dei servizi, la mensa ai poveri, il giro dei pasti e altre cose. Quindi è una realtà che già conosco, conosco anche le persone che ci lavorano quindi non è un ambiente a me sconosciuto e quindi ecco con entusiasmo inizio questa avventura con questi ragazzi, poi il signore che guida, che fa gettare il seme e fruttificare. Ogni giorno che passa sarà un giorno dove si crescerà insieme.